Il tour elettorale Il tour elettorale di Salvini va avanti con comizi in piazza, ma anche con interviste telefoniche, come quella di questa mattina a RTL 102 5, durante la quale tocca vari argomenti, a partire proprio dal voto che si terrà domenica e lunedì, le elezioni regionali non riguardano il governo, ma la Toscana e gli elettori della Toscana, afferma Rispondendo anche a chi gli fa notare che il suo commento riguarda solo una delle sette regioni al voto, è una sfida molto affascinante perché dopo decenni di governo di sinistra lì può esserci un cambiamento Il leader leghista torna sul voto e sul governo, mi auguro che Conte e Azzolina vadano a casa, ma non per il voto delle regionali Spero vadano via prima possibile ma non è con questo voto che succederà Salvini è l'inizio della scuola.In occasione della riapertura delle scuole in gran parte d'Italia, Salvini rivolge anche un messaggio a tutti coloro i quali abbiano a che fare con questo mondo, in blocca al lupo alle mamme e ai papà, saranno mesi complicati non solo per gli studenti? Noi abbiamo fatto una marea di proposte, siamo arrivati a settembre e nulla è stato fatto Noi contestiamo al ministro Azzolina la mancanza di ascolto dei presidi, degli insegnanti, degli studenti, dei sindacati Il ministro deve ascoltare, non insultare Ci sono più di un milione di bimbi senza aula